Partiamo allora dalla riete. La giornata, seppure non sfavillante, vi trova in buona forma. Procedendo con ordine e metodo riuscirete a smaltire a perfezione il lavoro di routine. Toro, un po' di stanchezza e un leggero calo di tono sono da prevedere. Tuttavia non fatevi prendere dall'ansia. Tenete sotto controllo le emozioni e vedrete che saprete affrontare al meglio gli eventuali contrattempi. Gemelli, giornata pigra, ideale per prendervi il vostro tempo senza fare programmi. Inutile accettare impegni che poi dovreste faticare a disdire. Qualche insoddisfazione lavora interiormente. Cancro, giornata confusa. Tuttavia gli astri che la scortano indicano il modo migliore di procedere. Ottimismo e diplomazia. Mettete da parte i vostri dubbi e godetevi la compagnia degli altri. Leone, giornata di ampio respiro. Ci sono ancora problemi ma li affrontate con una bella grinta. I rapporti con l'ambiente scorrono fluidi e vi consentono di mantenere uno stato d'animo sereno. Vergine, una giornata davvero speciale. Avete la grinta giusta per cogliere al volo le buone occasioni. La serata sarà lietata da un evento piacevole, forse la visita di un amico che non vedete da tempo. Bilancia, state vivendo una sorta di stallo ma per il momento non ci sono le condizioni per poter cambiare. Approfittatene per fare il punto. Essere pazienti e riflessivi può portare successo e libertà. Scorpione, le riflessioni sono utili ma non quando rallentano troppo l'azione. Ci sono buone opportunità da prendere al volo, meglio agire in fretta. Possibilità di qualche entrata extra. Sagittario, oggi non sapete nemmeno voi cosa volete ma vi sentite insoddisfatti su tutti i fronti. Niente distrazioni, niente risate, niente spostamenti. Addirittura potreste decidere di declinare un invito. Capricorno, ogni vostra iniziativa colpisce nel segno. Se di recente avete subito un torto, finalmente sarà fatta giustizia. Trovando una soluzione che metta tutti d'accordo, vi guadagnerete la stima dei superiori. Acquario, vi attende una giornata pimpante e ricca di occasioni. Molto bene le relazioni di amicizia ed amore che fioriscono grazie alle vostre amorevoli cure. Pesci, forse non sarete troppo convincenti con le persone che vi circondano ma sicuramente risulterete simpatici. Investite di più nel vostro talento, qualunque esso sia, e quando serve affidatevi all'intuito.